Musica Benvenuti, oggi primo gennaio, oggi si festeggia il Capodanno, tre personaggi famosi nati in questo giorno, ricordiamo il giornalista Furio Colombo. Ed ora passiamo all'oroscopo. Ariete, il lavoro dovrebbe procedere agevolmente nel corso della giornata senza particolari preoccupazioni, approfittatene per risolvere una faccenda personale. Toro, nonostante le numerose difficoltà e le opinioni contrarie dei collaboratori, riuscirete nel vostro intento, in amore occorre avere più grinta, un programma diverso dal solito per la sera. Gemelli, attenzione a come vi comporterete perché il vostro protagonismo sta creando qualche nemicizia, affettivamente non ci dovrebbero essere problemi, attenti alla gelosia. Cancro, giornata ricca di alti e bassi del cuore e della mente, l'atmosfera generale, un po' turbolenta, sarà addolcita dal vostro innato senso dell'equilibrio, cautela nei rapporti. Leone, sentirete l'esigenza di approfondire alcuni argomenti culturali, sentimentalmente dopo un periodo difficile, fra voi e la persona amata tornerà il sereno e la voglia di stare insieme. Vergine, grazie al benevole influsso degli astri potrete raggiungere notevoli traguardi in ogni campo, grazie ad un nuovo giro di amicizia e conoscerete la persona giusta. Bilancia, fate di tutto per tenere lontane le preoccupazioni di lavoro durante le ore libere della giornata, ma se un pensiero si dovesse fare più assillante, cercate di risolverlo. Scorpione, il vostro rapporto con la persona amata si sta consolidando a poco a poco, la comprensione reciproca vi aiuterà a risolvere gli ultimi problemi e il dialogo sincero vi permetterà di comunicare. Sagittario, poco favoriti gli spostamenti dato che siete anche stanchi e di cattivo umore, in amore occorre essere più agguerriti per tenere a bada certi sentimenti contrastanti. Capricorno, un familiare cercherà di frenare i vostri entusiasmi e le vostre speranze riguardo alcune iniziative professionali, a torto quindi seguite solo il vostro intuito. Acquario, meglio rinviare alla prossima settimana un viaggio di lavoro anche se presenta caratteri di urgenza, prendete tempo per studiare a fondo la situazione, un invito piacevole. Pesci, siete soggetti ad influssi emissi, siete molto combattuti per alcune decisioni da prendere, sappiate migliorare i rapporti con le persone vicine, vedete il lato più positivo. Proverbio del giorno, non ci sono errori ma opportunità per conoscere le cose. Questo è tutto per oggi, la redazione di Voce di Strada vi augura un felice anno nuovo, arrivederci a domani.